Dal commento sui salmi di Sant'Ambrogio Vescovo Sia sempre nel nostro cuore e sulla nostra bocca la meditazione della sapienza e la nostra lingua esprima la giustizia. La legge del nostro Dio sia nel nostro cuore. Per questo la scrittura ci dice ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Parliamo dunque del Signore Gesù perché Egli è la sapienza, Egli è la parola, la parola di Dio. Infatti è stato scritto anche questo, apri la tua bocca alla parola di Dio. Chi riecheggia i suoi discorsi e medica le sue parole la diffonde. Parliamo sempre di Lui. Quando parliamo della sapienza è di Lui che parliamo. Così quando parliamo delle virtù, quando parliamo della giustizia, quando parliamo della pace, quando parliamo della verità, della vita, della redenzione, è di Lui che parliamo. Apri la tua bocca alla parola di Dio. Tu la apri e gli parla. Per questo Davide ha detto, ascolterò che cosa dice in me il Signore. E lo stesso figlio di Dio dice, apri la tua bocca, la voglio riempire. Ma non tutti possono ricevere la perfezione della sapienza come Salomone e come Davide. A tutti però viene infuso lo spirito della sapienza secondo la capacità di ciascuno, perché tutti abbiano la fede. Se tu credi, hai lo spirito di sapienza. Perciò medita sempre. Parla sempre delle cose di Dio quando sarai seduto in casa tua. Per casa posso intendere la chiesa, possiamo intendere il nostro intimo, per parlare all'interno di noi stessi. Parla con saggezza, per sfuggire al peccato e per non cadere col troppo parlare. Quando stai seduto, parla con te stesso, quasi come dovessi giudicarti. Parla per strada, per non essere mai ozioso. Tu parli per strada se parli secondo Cristo, perché Cristo è la via. Cristo parla a te e tu parla a Cristo. Senti come devi parlargli. Voglio, dice Paolo, che gli uomini preghino dovunque si trovino, alzando al cielo mani pure, senza ira e senza contese. Parla, o uomo, quando ti coichi, affinché non ti sorprenda il sonno di morte. Senti come potrai parlare sul punto di addormentarti. Non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Quando ti alzi, parlagli per eseguire ciò che ti è stato comandato. Senti come Cristo ti sveglia. La tua anima dice, un rumore, è il mio diletto che bussa. E Cristo dice, aprimi, sorella mia, mia amica. Senti come tu devi svegliare Cristo. L'anima dice, vi scongiuro, figli di Gerusalemme, svegliate, ridestate l'amore. L'amore è Cristo.